Salve ragazze, in questo ultimo periodo ho partecipato a un giveaway sulla pagina di Facebook di Michelinia e a uno di questi comunque ho vinto, e infatti oggi mi è arrivato un pacchettino infatti qui ho vinto pure, from Michelinia e quindi ho deciso comunque di spacchettarlo insieme a voi io in realtà comunque già l'ho aperto per vedere comunque se c'era tutto così da inviare il messaggio comunque a Michelinia quindi ora vi faccio vedere pure a voi cosa è uscito allora partiamo subito e sta questo che è un rossetto, comunque è della collezione AIM ed è il numero 003 ed è questo rosso un rosso comunque molto forte, molto bello sinceramente non lo utilizzerò tutti i giorni sicuramente però comunque mi piace davvero tanto in realtà tutte le cose sono uscite mi piacciono sono davvero felice di aver vinto poi ho ricevuto questo che è un profumo della Roger Galet che sinceramente già l'ho aperto e mi piace pure come profumo quindi ve lo consiglio poi della collezione ho ricevuto questo qui cos'era? ah questo qui è blush il numero 001 ve lo faccio vedere aperto sarebbe questo qui questo rosa, questo pesca molto chiaro, molto bello poi questo qui è il matitone 004 che è un ombretto waterproof sempre della cupa poi ho ricevuto questo qua sempre della Jolly Blue che invece questo qui è un bassamolabbra sempre lo 001 e questo penso c'è che lo 003 a parte che ha un bellissimo profumo questo qui comunque colore è un colore molto chiaro, un color pesca e infine arriviamo alle ultime tre cose comunque di questo pacco che sono questi tre smatti effetto vetro non posso vedere allora prima è questo che non so se vedete bene dalla luce è un viola ed è il numero 054 poi abbiamo quest'altro che è un color pesca ed è lo 047 e infine abbiamo quest'ultimo che è comunque rosso ed è lo 041 bene io sono felicissima e sono ancora incredibile comunque di aver vinto questo J-Way infatti comunque non ci credevo e non faccio anche le linee che caso guardi anche questo video e quindi spero che questo video vi sia piaciuto e spero per di poterne fare anche altri aiutamenti e niente ci vediamo al prossimo video ciao